si chiama marco torino greco il migliore amico di marco mengoni con cui il cantante è andato in vacanza insieme anche ad altri amici a paparazzarli sono stati i fotografi del settimanale chi che ha così scritto nell'ultimo numero quest'anno il cantante si gode una pausa relax negli scatti esclusivi pubblicati da chi lo vedete al mare con amici in una forma fisica smagliante e con addominali scolpiti in vista ha scelto pantelleria l'isola selvaggia a sud ovest della sicilia in provincia di trapani e a nord est della tunisia per staccare dalla routine marco mengoni in vacanza col suo migliore amico marco torino greco una location magica che marco mengoni ha deciso di condividere con i suoi amici e il suo bff tal marco torino greco un napoletano che nella vita lavora per una società di consulenza quello con cui ride scherza e commenta foto sul telefono è il suo migliore amico marco torino greco napoletano che vive a milano e lavora in una società di consulenza dove vai quando la vita poi esagera si chiedeva il vincitore di sanremo 2023 nel brano due vite sei volte disco di platino e la risposta sembra essere tutta qui ti rifugi in luoghi magici e con le persone che diventano la famiglia per scelta negli scatti mengoni appare rilassato e scherza con i suoi amici mentre si dedica alla schincare naturale con i fanghi termali che si trovano nello specchio di venere un lago vulcanico situato nella parte settentrionale dell'isola all'interno del parco nazionale di pantelleria beati loro